I dragoni della distruzione, il raid finale di questo DLC e di questo gioco ora autonomo. Ho solo una pistola viola, ma ho un buon mod leggendario e anche un ottimo scudo. Anche se di livello 31, e qua ai nemici i dragoni sono di livello 35. E mi sto riferendo al Neo Generator, perché non ho avuto molto fortuna nell'utilizzare quello di livello 35, il Tortoise, della Pan. Il fucile da cecchino è perché voglio essere molto sicuro del dragone che vado a danneggiare. Infatti sarà poi quella da terrare e potremo fare davvero danno poi con le pistole. Perché prima lui? Se fa ceste a terrare uno degli altri e non fosse abbastanza potenti da farlo fuori quel drago prima che spicchi il volo, questo signorino, Elias, andrebbe a ripristinare la loro salute, vanificando il vostro sforzo. Questo è anche il dragone che ha più salute di tutti. Tre volte, se non ricordo male, quello verde. Ho eliminato Elias, dico che saremmo a metà strada, però non so se ci avete badato, ma non ho tirato le missile mentre il drago era in volo. Perché se non ricordo male, sempre che ci sia ancora questo strano comportamento, e proprio adesso forse l'ho fatto senza volerlo perché lui si è alzato prima che le granate lo colpissero, atterrando sarebbe poi immune alla scoria. Allora conviene lasciarlo in pace quando è in volo e appena a terra, giù di granate per sfruttare il debuff assicurato dalla scoria. Particolare importante, vista la tostezza di sto tipo, potrebbe essere anche una buona strategia alternativa, perché qua si rischia di lasciarsi la pelle, è inutile nascondercelo, far scendere prima di lui il dragone verde, che è abbastanza debufficcio, e soprattutto quello farebbe esponare dei basilischi con dei certoloni verdi, molto semplici a far fuori, che diventano preziosissimi per uscire vittoriosi da lotta per la vita, quindi non fateli fuori. Altro consiglio molto prezioso, a meno che di essere sicuri di poterlo far fuori con un solo giro prima che si rialzi, non fate scendere, fatelo magari scendere per ultimo, quello viola, quello scoria, che ovviamente è anche immune alla scoria, perché? Quello invece fa salire di livello gli altri dragoni, li trovereste così magari con l'ultimo a livello 36-37 invece che 33-35, il dragone rosso lo sputa fuoco, sapendo com'è la meccanica del suo agire, poi non è così la team del mondo. Eh, qui se svicciassi sui due fucili d'assalto farei parecchi più danno, ma non mi fido, è troppo il danno che sono costretto a sopportare, e la nozol mi sta tenendo in vita. Io ci ho voluto provare lo stesso, senza andare a farmare prima e trovare una pistola leggendaria. Notate, quando è finito il Ganserk, sono passato alla nozol con l'unico scopo di rimanere in vita. Se avessi continuato a far danno con la pistola viola, probabilmente ne avrebbe fatto sempre. Ecco, ora ho fatto scendere questo, perché penso di riuscire a farlo fuori facilmente, notate come la salute va da giù molto più velocemente. E alcuni basilischi, guardate i puntini rossi sulla mappa, sono sponati. È una specie di assicurazione sulla vita, ora che sono così vicino ad aver tirato giù Elyanth, sono un po' più tranquillo. Vediamo se riesco a far scendere lui. Urk. L'ho gufata, ma ecco qua il basilisco, salvo. Non l'ho fatto apposta. Ora il signor Elyanth è mio. Dovrei farcela, sicuramente ce la faccio. Ne mancano solo due. Direi, forse è meglio prima quello scoria, andiamo un po' a cercarlo. Vediamo se scende. Non dimenticatevi che c'è anche il calice rosso. In momenti che diventano critici potete un po' anticipare, andare a prenderlo e resistere meglio al danno di questi bestioni. Niente Ganzerk, solo Nosum. E adesso via. Non così veloce come quello verde, ma anche il viola si lascia danneggiare abbastanza. Qui, secondo me, spiccando il volo, mi ha fatto evolvere di un livello l'altro, quello rosso. Quindi minimo ce la vorrò 34. Però è ancora gestibile, penso. Dove sei? Non fa... Noso! Tienemi in vita. Ti prego, tienimi in vita. Beh, anche il neo generico che fa la sua, anche se è solo livello 31. No, 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 no. Yes! E adesso sei mio. Oh, sì che sei mio. Urla, urla, strilla. Sei arrivato a capoline. L'ultimo. Ricordatevi, quando si chiude un po' a fiore con le ali, lasciate perdere. Non solo sarà immune ai danni, ma molto facilmente i proiettili tornerebbero addosso, danneggiando voi invece di lui. Ecco, io vado a prendere questo coso qua per essere un po' più protetto, visto che il tempo me lo dà. E qui non si è visto, però prima di incendiare alcune parti dell'arena, le stesse si erano illuminate con un colore inconfondibile. Quindi, agguzzate la vista, non è difficile capire dove metterci per non rimanere bruciacchiato. Occhio che ogni volta che lo farete risalire, lui scendendo ripeterà ancora il suo rito e l'area incendiata dell'arena sarà sempre maggiore. Fino alla copertura totale, dove non avrete scampo, per cui vi conviene farlo fuori prima, ma non dovrebbe essere un grosso problema. Cioè, non lo sarebbe, se a differenza di quanto è capitato a me, non l'avendo fatto fuori con un solo turno, quello scoria, rialzandosi in volo, quello scoria ha fatto evolvere fino al livello 35, ma se fosse rimasto a livello 33, sarebbe stato un gioco da ragazzi. Ok, adesso dovrei riuscire a fargli vedere anche il momento in cui lui, chiudendosi con le ali, va a infuocare quelle aree, dove però visivamente avremmo un'indicazione di quello che sta per capitare. Ecco. Quella lì sulla sinistra, illuminata, infuocata, e così via per le altre. Adesso accelero un pochino, tanto lo schema si ripete uguale a se stesso, in un ciclo. Verso la fine della sfida, ho preso un po' di coraggio, e ho voluto provare con le altre due armi, un cecchino e il conference call. Ero sicuro che avrebbero fatto molto danno, ma non volevo rischiare dopo tutto questo tempo. Adesso, anche se dovesse andare male, riprendo in mano le pistole, mi sono detto, eh sì, è il più danno. Conference call è molto potente, è una magendaria, e si vede. È finita. Preparatevi a una simpatica esplosione di bottiglia. Purtroppo le armi, o equipaggiamento, o scudo, tipicamente rosa, neanche qui, nella sfida più impegnativa, scalano a 35. La vera ricompensa è l'incredibile numero di cristalli serafini, doveste averne ancora bisogno, ma forse no a questo punto, ma le Rydion sì, signori. Tra questo e quello che potremmo andare a prendere nella stanza dei Mimic, sono circa 120 pezzi, 120 pezzi. 12 lanci, che poi diventano 14 e 15, di catapulta. Così poi, magari, riesci anche a trovare, guarda là un po' di arancione che si vede, che cosa sarà? Logan's gun. Sì, non male, eh, bisogna sapere l'usare. Avessimo lo sham sarebbe ottima per... Ecco, questo volevo. Adesso ragioniamo. Ma c'è qualcos'altro qui? Eh, non male, eh, questa è davvero buona di granata. Potentissima. Che questo è il giro buono. Non c'era qualche cos'altro? Un altro... Yes! Una double penetrating, praticamente. Doppia. Chu. Fer. Maggie. Questa è una signora pistola. Andiamo subito a vedere quanto si abbassa il tempo di distruzione dei dragoni della distruzione. Ma vai! Nettamente di più! Sono già quasi a metà! Grande Maggie! Quando poi parte colpo finale... Lo sto tritando! Non dico come la Harold, ma chissà, una bella lotta. Spero droppare anche lei, in versione double, penetrating, un-camped Harold. E poi vediamo. Anche incinerator, una bazzicola. Mi aspettavo di metterci di meno, sinceramente. Pronto. Questo vi dirisco nel suo acido. Ma dove vuoi andare? Senta neanche la nuova tutta. Ecco. Ehm, 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 ehm. Ehm, boost mio. Adesso ho il Neo Generator a 35, posso anche permettermi di usare Conference Call e un altro pompa senza polini. Certo, fossero due leggendari, mamma mia! Siamo alla fine, ci ho messo la metà di prima, dai, grosso modo. 120 pezzi che si aggiungono. Velocissimi. Ma... Adesso sto per mostrarvi una tecnica. Per beccarvene. 3.000, 1.200 all'ora. Pronti? Il trucco in realtà è banale. Quasi mi vergogno, però, non tutti sono veterani, dai. Il drop di Eridium e Cristalli Seraphimi non cambia se facciamo fuori i dragoni in modalità normale, impiegandoci pochi secondi. Serve molto più tempo per arrivare qua con la corsetta e raccogliere l'Eridium da terra. Rispetto al tempo necessario per far fuori tutti e quattro i dragoni. Ho cronometrato da quando si spuone alla stanza fino alla raccolta dell'ultimo pezzo di Eridium. Dalla stanza di Mimic, 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Poi se avete un personaggio che può correre molto veloce, potreste anche impiegare meno tempo, ma grosso modo siamo lì. Diciamo 120 pezzi tra dragoni e Mimic. 120, 5 minuti, per 12, potremmo arrivare addirittura a 1.300, 1.400 pezzi. Stiamo un po' conservativi, diciamo 1.000, tanto a 999 ho detto di fermarvi comunque. Ce n'è davvero da buttare. E allora? E allora c'è una sorpresa finale, che non è tanto questo fantastico Liuda, perché Liuda è un'arma fantastica. Anche non abbinata al B, da sola è un'arma fantastica. una potenza devastante come poche. Ma non è neanche il B che ho trovato. Mi piacerebbe, però tenerlo sempre carico per sfruttarlo non sarebbe comunque facile. Ma questa qui, anche se non è una double, è sempre una signora Herold. E questa, ve la ricordate contro Iperius, doppio lancio col B, one shot di Iperius. Bella anche la slagga, bella. Non so se è casuale, ma ho trovato tutte le armi più forti, come il Pitchfork, l'Aiuda, Babymaker, questa slagga, il Conference Call, tutti in versioni corrosive, come se Gearbox avessi voluto favorire questo elemento così importante per fare parecchio danno con nemici così tosti. Davvero, non posso finire il video senza aver provato prima Herold, almeno contro Elias, quello con la salute più tosta. Ma vi ricordate primo quanto ci ho messo? Una mangiata di secondi! Ma dai! Herold, come ti riconosco! Ti amo! E se fossi la double? E allora è una risentirci anche se non so a quando, perché non ha senso dare un'occhiata total farming dei vari boss, finché non implementano lo scaling al nostro livello degli avversari. Ma io lo stesso a risentirci!